un problema tecnico, ah eccolo qua, quindi c'era qualche cosa, finalmente siamo in registrazione ci deve essere qualche problema in rete ma comunque per il momento la registrazione è partita quindi ecco qua, vedete la diapositiva spero? Allora iniziamo, naturalmente come al solito se avete domande interrompetemi quando volete, spero che sia chiaro il modo con cui si trovano le funzioni che descrivono gli orbitali molecolari di una molecola, le combinazioni lineari va bene e il principio di simmetria che è quello che è il principio guida che serve a trovare quali sono le combinazioni lineari accettabili, vi ho detto quelle che hanno la stessa simmetria e vi ho fatto vedere che il giochetto poi è assolutamente semplice torniamo all'esempio di questa molecola triangolare planare dove i tre atomi periferici sono tutti uguali, quelli rappresentati in verde e c'è un atomo centrale, abbiamo visto che ammesso che le funzioni atomiche che scegliamo siano degli orbitali di tipo S, infatti vedete sono tutte delle sfere, le ho chiamate psi 1, psi 2 eccetera eccetera, la combinazione lineare è quella che li tiene tutti dentro perché? Perché sotto le operazioni di simmetria di un triangolo equilatero questi orbitali si scambiano fra di loro, cioè scambiano posto allora finché la funzione molecolare, l'orbitale molecolare resti invariante cioè non cambi, perché la molecola per rotazione non cambia l'importante è che dentro la somma ci siano tutte le funzioni l'unica che potrebbe star fuori è psi 0 perché quella non si sovrappone alle altre quella è al centro e rimane sempre su se stessa ma siccome rimane sempre se stessa allora se anche la metto nella combinazione non mi cambia assolutamente niente quindi questa è una possibile combinazione si chiama adatta alla simmetria questa è un orbitale molecolare adattato alla simmetria della molecola la funzione matematica psi grande ha una proprietà di simmetria che è uguale a quella della molecola ossia è invariante, non si modifica per rotazioni di 120 gradi che è una delle proprietà di simmetria della molecola è chiaro che per costruire gli orbitali molecolari dovete utilizzare tutte le possibili operazioni di simmetria ce ne sono tante altre le operazioni di simmetria di un triangolo equilatero sono molte di più che la semplice rotazione ma a me interessa solo farvi capire il metodo punto non ho nessun altro obiettivo cioè non ci mettiamo certo qua a fare i conti di orbitali molecolari bene se questo è chiaro vi ho anche fatto vedere che invece di usare gli orbitali s potreste usare gli orbitali p ma la storia non cambia trovereste un altro orbitale molecolare psi primo dove dentro avreste la combinazione degli orbitali psi primo 1, psi primo 2, psi primo 3 ora state attenti che vedete che non c'è psi primo 0 immaginate che questi orbitali stiano sul piano della molecola non so se si vede nella figura ora quando ruotate di 120 gradi vedete che psi 0 in realtà ruota su se stesso quindi cambia cambia quindi non si può inserire vedete r 120 psi primo 0 non è uguale a psi primo 0 perché l'orbitale cambia direzione mentre invece gli orbitali psi primo 1, psi primo 2, psi primo 3 come al solito si sovrappongono uno all'altro quindi in questa combinazione noi dovremmo l'orbitale molecolare dovrà tenere dentro solo gli orbitali p periferici perché se ci mettessimo dentro psi primo 0 allora ecco che la funzione d'onda totale la funzione di stato totale non sarebbe invariante ripeto dovete immaginare che gli orbitali p qua rappresentati con i due lobi siano esattamente sul piano della diapositiva stanno sul piano della diapositiva spero sia chiaro questo dalla figura questo è un esempio di come si costruiscono in questo caso per esempio l'orbitale centrale non ci sta non ci può stare perché se no non otteniamo una combinazione invariante vengo a un altro punto che voi ce l'avete in testa il concetto di sigma e pi greco ecco che è arrivato finalmente quando dire sigma o pi greco da che cosa dipende cerco di spiegarvelo così allora tenete a mente questa combinazione qua che abbiamo appena fatto però invece di utilizzare gli orbitali che stanno sul piano della molecola chiamiamoli px o py non dipende dalle coordinate che usate potreste usare gli orbitali p che sono perpendicolari al piano della molecola e che spero qui di essere riuscito a farvi vedere bene con la figurina sapete come sono fatti gli orbitali p no? ce ne sono tre se prendiamo il piano xy ce ne sarà uno lungo l'asse x uno lungo l'asse y e uno perpendicolare lungo l'asse z quindi se noi usassimo i pz i pz questi sono pz sui singoli atomi nessuno ci impedisce di impedisce di usarli quindi se li usiamo vedete che in questo caso anche il pz dell'atomo centrale si può inserire dentro la combinazione perché ruotando di 120 gradi essendo perpendicolare al piano della molecola lui ruota su se stesso e quindi è perfettamente invariante gli altri come al solito si scambiano e allora la combinazione la combinazione in questo caso psi grande 2 è invariante e può contenere tutti e quattro gli orbitali è chiaro questo concetto? è chiaro? perché siamo costretti a dire sigma e pi greco? perché quando andiamo a combinare questi orbitali dovete guardare la disposizione in questo caso gli orbitali sono perpendicolari al piano della molecola in particolare sono perpendicolari all'asse di legame quindi quando andiamo a fare queste combinazioni proprio dal punto di vista matematico noi otteniamo certi tipi di combinazioni in particolare tutti i lobi rossi si sovrappongono con i lobi rossi tutti i lobi gialli si sovrappongono con i lobi gialli e la funzione risultante che io posso rappresentare scusate io posso rappresentare una volta che ho fatto la somma di questi orbitali mi viene fuori un orbitalone che assomiglia un po' a quelle nuvolette lì se fate il grafico nello spazio però il lobo superiore avrà un colore diverso del lobo inferiore insomma quando sovrapponete gli orbitali per fare gli orbitali molecolari quando sovrapponete gli orbitali atomici in modo perpendicolare all'asse di legame allora la funzione avrà una precisa proprietà che è dovuta al fatto che i lobi rossi staranno tutti sopra al piano e i lobi gialli staranno tutti sotto questa proprietà si chiama parità anche questa la farete molto diffusamente è una delle proprietà di simmetria più importanti in fisica quindi si dice che l'orbitale risultante avrà una certa parità allora quando gli orbitali atomici di tipo P si sovrappongono perpendicolarmente all'asse di legame o al piano della molecola planare se volete è la stessa cosa in questo caso si dice che l'orbitale risultante questo è di tipo P greco P greco sta a dire che gli orbitali atomici si sovrappongono nel modo si combinano nel modo in cui vi ho appunto detto ecco cosa vuol dire P greco è una proprietà della funzione risultante cioè è una proprietà è una proprietà del fatto che il lobo rosso sta sopra e il lobo bianco sta sotto quindi vuol dire che la funzione matematica ha una certa proprietà di simmetria in particolare passando da un piano all'altro cambia di segno vi ho detto che il colore degli orbitali corrisponde al segno della funzione lo so che queste cose sono un po' non sono del tutto chiare ma dovremo entrare nei dettagli del concetto di parità comunque si dice che questo orbitale è simmetrico per parità immaginate che il piano della molecola sia uno specchio vuol dire che quello specchio riflette il lobo rosso nel lobo giallo e viceversa e quella è una proprietà di simmetria della funzione risultante e a questa proprietà gli si dice e per questo che questi tipi di funzioni si chiamano P e questi si chiama sovrapposizione di tipo P greco quando invece abbiamo fatto questa qui gli orbitali avete visto stanno sul piano del triangolo equilatero in particolare l'asse di legame li taglia li taglia in due quando li vado a sovrapporre io vado a sovrapporre il lobo rosso sul lobo rosso il lobo giallo sul lobo giallo e via di seguito quindi ottengo un orbitale che si può rappresentare in questo modo quando sovrappongo l'orbitale invece l'un sullo stesso piano dell'asse di legame l'orbitale risultante si chiama sigma sigma ve lo dico in una maniera un po' più semplice eccolo qua quando voi fate le vostre combinazioni lineari per fare gli orbitali molecolari appunto gli orbitali P li potreste sovrapporre in questo modo cioè lungo l'asse di legame e corrisponderebbe a questa situazione questa qua vedete questo orbitale P ruotando va a sovrapporsi sul lobo rosso però lo fa sullo stesso piano il lobo giallo si sovrappone al lobo giallo ma sempre sul piano del triangolo equilatero quindi è rappresentato in questo modo ci siete? ebbene questo tipo di combinazione non è altro che un'operazione matematica produce degli orbitali che vedete l'asse di legame taglia in due i lobi gialli e i lobi rossi quindi non ha la stessa proprietà di simmetria della sovrapposizione pi greco in questo caso questa sovrapposizione la chiameremo sigma invece quando combiniamo linearmente gli orbitali in modo che i lobi siano come dire divisi una parte sopra e una parte sotto dal piano della molecola cioè dal triangolo equilatero in altre parole i lobi sono perpendicolari all'asse di legame che cosa ottenete? ottenete una funzione dove il rosso si sovrappone con il rosso il giallo si sovrappone con il giallo e la funzione risultante mantiene perfettamente la stessa simmetria bene questo tipo di sovrapposizione si chiama pi greco ecco cosa vuol dire orbitali di tipo sigma e orbitali di tipo pi greco è chiaro che il come dire il simbolo sigma e pi greco lo si può usare lo si può usare anche per gli orbitali atomici ma in particolare lo si usa per le combinazioni lineari degli orbitali molecolari ecco non so se ho chiarito cosa vuol dire sigma e pi greco dipende proprio dalla disposizione del rispetto all'asse di legame o al piano della molecola degli orbitali che andate a combinare e questo fa una bella differenza perché perché quando disponete gli orbitali in modo perpendicolare all'asse al piano della molecola vedete che l'orbitale pz psi 2 0 può stare nella combinazione quindi ottenete una combinazione che è assolutamente differente che nel caso in cui gli orbitali si trovino sullo stesso piano del triangolo equilatero in questo caso l'orbitale centrale non ci può stare non ci può se questo è il piano xy questo sarà l'orbitale py ebbene il py non può stare dentro la combinazione perché non è invariante quindi essere sigma fare una combinazione sigma o fare una combinazione pi graico fa una bella differenza ed ecco perché si deve usare questa distinzione ci sono domande? bene ah giusto ultima considerazione nel caso degli orbitali s lì non c'è assolutamente nessun problema sono sferici per cui qua le sovrapposizioni saranno sicuramente sigma perché li sovrapponete la sfera non ha una direzione privilegiata la sfera ha tutte le direzioni possibili quindi non c'è modo di distinguere fra una combinazione lungo l'asse di legame o perpendicolarmente all'asse di legame sono delle sfere quindi non c'è una direzione privilegiata quindi quando sovrapponete gli orbitali s la combinazione risultante sarà sicuramente di tipo sigma anche perché gli orbitali s hanno tutti lo stesso segno cioè hanno un unico segno mentre gli orbitali p vedete rosso giallo vuol dire che cambiano segno dal più al meno quindi l'essere sigma e l'essere pi greco è una proprietà matematica delle funzioni risultanti che sono invarianti rispetto o non invarianti rispetto a quell'operazione che si chiama parità che è un'operazione tipicamente matematica notate che le particelle elementari hanno una proprietà che corrisponde alla parità c'è quel famoso esperimento per esempio nelle particelle elementari la parità non è conservata ma questo lo farete quindi il concetto di parità hai nelle leggi della fisica vi assicuro che ha un ruolo fondamentale bene domande? quindi abbiamo fatto anche il concetto di orbitali combinazioni lineari sigma e combinazioni lineari pi greco ultima seccatura e poi finiamo il legame chimico non so se fino ad ora siete riusciti a seguirmi ripeto il mio scopo è solo quello di dire come si ragiona come si procede per fare questi orbitali che descrivono la molecola vedete che la simmetria è fondamentale ecco c'è un metodino molto più semplice perché uno dice ma io queste combinazioni lineari non è che sia facile farle infatti è vero più la molecola diventa complessa più fare queste combinazioni diventa un esercizio matematico non indifferente con la teoria dei gruppi si fa molto prima ma noi non abbiamo non disponiamo della teoria dei gruppi prima della prima del concetto di orbitale molecolare questi si chiamano orbitali molecolari fu sviluppata una teoria più semplice che sicuramente voi conoscete già che si chiama teoria del legame di valenza è sempre basata sulla simmetria ma è una semplificazione della teoria generale che abbiamo fatto adesso cioè quella delle combinazioni lineari degli orbitali atomici fu sviluppata per prima perché era più semplice ed è anche molto intuitiva io vi faccio vi faccio diciamo i concetti generali di questa teoria e vedrete che è molto utile però ovviamente è molto più come dire dal punto di vista del calcolo è molto meno potente della teoria delle combinazioni lineari cioè della teoria degli orbitali molecolari la teoria delle orbitali molecolari è la più generale possibile quasi insomma poi ci sono stati degli sviluppi ulteriori questa qui invece è molto intuitiva perché anche lei parte dalle strutture di Lewis e allora come dire anche per uno studente si capisce un po' meglio però ripeto si basa anch'essa sulla simmetria sull'invarianza rispetto a tutte le operazioni di simmetria della molecola quindi il concetto non cambia qual è la differenza? Allora attenzione qui ci sono i postulati di questa teoria che fu sviluppata per prima ripeto da Pauling che si beccò anche il Nobel comunque era sicuramente un chimico notevole chimico teorico notevole allora il concetto è questo attenzione statemi a sentire tutto bene fino adesso non ci sono domande bene fino adesso la teoria generale che abbiamo fatto fino adesso avete visto che tratta tutti gli atomi che compongono la molecola allo stesso modo cioè quando va a fare le combinazioni lineari prende prende almeno una funzione un orbitale atomico da ciascuno degli atomi che compongono la molecola poi dopo fa le combinazioni ma in linea di principio chi fa la combinazione lineare può servirsi di tutti gli orbitali di tutti gli atomi che compongono la molecola non c'è un limite a questo l'unico limite è appunto che la combinazione deve soddisfare alle regole di simmetria la scelta degli orbitali avete visto è arbitraria insomma uno decide quali orbitali utilizzare perfetto invece la teoria del legame di valenza la mette molto ma molto più semplice lei dice va bene io non voglio utilizzare tutto nello stesso momento nella stessa combinazione gli orbitali di tutti gli atomi della molecola no troppo complicato io descrivo il legame all'interno di una molecola come un legame che avviene fra coppie di atomi cioè a dire sposa questa teoria sposa appieno il concetto di scambio di coppia elettronica fra due atomi che era il concetto originale di Lewis quindi polling si è strettamente riferito all'idea della coppia di Lewis e quindi in questa teoria gli orbitali che andremo a costruire non descrivono tutti gli elettroni dentro la molecola come fanno gli orbitali molecolari ma descriveranno solo le coppie elettroniche che si scambiano fra coppie di atomi chiaro questo concetto? questa è la netta differenza fra la teoria degli orbitali molecolari e la teoria che si chiamerà adesso legame di valenza per ovvi motivi perché parte proprio dal concetto di Lewis originale ossia della coppia elettronica che si scambia fra gli atomi e che ha poi portato a definire la valenza degli atomi quindi viene chiamata teoria del legame di valenza e voi direte ma allora la molecola viene a essere un puzzle è vero è vero in questa teoria la descrizione quanto meccanica è un puzzle tu praticamente associ a ogni coppia elettronica di legame e solitaria una funzione che è una funzione che dipende solo dai due atomi che sono legati fra di loro e non da tutti gli altri gli altri non vengono considerati la molecola viene considerata come se fosse un lego esattamente come un modellino lego dove i vari pezzi li attaccate a due a due qui è la stessa cosa cioè la molecola verrà descritta a pezzi a coppie dove le varie coppie sono i due atomi legati la struttura generale sarà il risultato di questa descrizione d'accordo questo questo sicuramente penso che lo sapete lo sapevate fin dall'inizio quindi è una descrizione a coppie di di atomi invece di prendere tutti gli orbitali atomici di tutti gli atomi tutti in una volta andrò solo a prendere un certo una certa coppia e userò gli orbitali atomici di quella coppia di quella coppia fin qui ci siamo pur tuttavia c'è un problema che è questo va bene sono d'accordo questa è una visione molto ma molto più semplificata è chiaro che immaginate voi che i calcoli si riducono diventano molto ma molto più semplici purtroppo però non sono così potenti come negli orbitali molecolari ma questo è un altro paio di maniche però rimane il problema di dire un momento però la geometria della molecola come faccio a descriverla nel caso degli orbitali molecolari io sceglievo la combinazione lineare che era invariante rispetto che non cambiava rispetto alle operazioni di simmetria della molecola quindi nella combinazione lineare era intrinsecamente inserita in questo modo la geometria della molecola perché solo le combinazioni invarianti venivano selezionate come orbitali molecolari quindi la geometria era intrinseca intrinsecamente inserita nell'orbitale molecolare qui come faccio ad inserirla visto che spacco la molecola in coppie come faccio poi quando rimetto assieme queste coppie vi rendete conto del problema io ho delle descrizioni a coppie del legame chimico ma quando rimetto assieme queste coppie come faccio a ricostruire la geometria della molecola se la molecola è tetraedrica come faccio qual è il metodo per il quale io rimettendo assieme le coppie ricostruisco la molecola tetraedrica vi rendete conto di questo problema è un problema critico perché vabbè tuffa è come avete i vari pezzettini dei lego attaccati a coppie e poi dopo li dovete tutti rimettere assieme ma se non sapete la figura finale che volete costruire come fate a rimettere assieme i pezzi le coppie qui è la stessa cosa ecco che deve entrare un altro concetto per poter riprodurre la geometria della molecola Pauling decide di fare una cosa del genere cioè attribuisce all'atomo centrale attribuisce all'atomo centrale la funzione di determinare la geometria finale e come fa a farlo i cosiddetti orbitali ibridi che cosa significa orbitali ibridi significa che in questa teoria del legame di valenza l'atomo centrale ha un ruolo chiave quindi l'identificazione dell'atomo centrale della molecola è essenziale perché descrivendo in un certo modo gli orbitali atomici di questo atomo centrale ripeto atomici io posso ricostruire la geometria finale che cosa vuol dire voi mi direte ma scusa l'atomo centrale i suoi orbitali li ha già li abbiamo dedotti dalla teoria dell'atomo di idrogeno quindi se prendiamo il metano nel metano l'atomo centrale è il carbonio ma il carbonio mi hai detto durante la teoria dell'atomo di idrogeno degli atomi poli elettronici che i suoi orbitali li ha già sono gli orbitali S sono gli orbitali P eccetera eccetera cosa significa dire che adesso tu mi mi ridefinisci gli orbitali atomici dell'atomo centrale in modo tale da rispettare la geometria cosa cosa significa questo non so se avete capito il problema eh quindi teoria a coppie però come rimettiamo assieme le coppie è l'atomo centrale che dirige la danza come fa a dirigere la danza l'atomo centrale bisogna ridefinire i suoi orbitali atomici bisogna rimodulare manipolare gli orbitali atomici idrogenoidi in modo tale che l'atomo centrale si fornisca di un nuovo insieme di orbitali atomici che chiameremo orbitali ibridi che abbiano le proprietà di simmetria della molecola facciamo un esempio facciamo un esempio per chiarire il concetto intanto vi invito a ricordarvi quelle tre regoline che vi avevo dato per dedurre la geometria delle molecole contando semplicemente il numero di sostituenti ok datevele a rivedere allora per chiarire cosa voglio dire con gli orbitali ibridi prendiamo una molecola lineare potrebbe essere l'anidride carbonica potrebbe essere il di cloruro di beriglio quello che volete di molecole lineari ce ne sono a bizzeffe benissimo l'atomo centrale è quello in rosso in questa molecola non ci sono dubbi su chi è l'atomo centrale allora la teoria del legame di valenza dice bene io descriverò il legame in questa molecola attribuendo una funzione una funzione molecolare che descrive il legame chimico a questa coppia di atomi quindi l'atomo di sinistra che sto segnando con l'atomo al centro è un'altra funzione separata che descrive invece il legame fra l'atomo di destra e l'atomo al centro benissimo questo è il concetto descrivo solo le coppie elettroniche di legame attribuisco una funzione che chiamerò funzione molecolare viene chiamata funzione di valenza quello che volete ma l'attribuisco solo a coppia di legame va bene ma una volta che ho fatto questo come ricostruisco la molecola come faccio a sapere che la molecola è lineare come faccio a dire a ricomporre la molecola in modo che sia una molecola lineare ecco come faccio ci siete fino qua capito il problema bene allora concentriamoci sull'atomo centrale l'atomo centrale ammettiamo che sia l'anidride carbonica sarà un atomo che avrà a disposizione degli orbitali di tipo S e degli orbitali di tipo P quello viene dalla teoria atomica no? questi orbitali però non hanno la simmetria della molecola in particolare vabbè l'orbitale S praticamente è una simmetria sferica quindi non ha una direzione privilegiata gli orbitali P hanno la simmetria di una di una di una retta di una linea di una geometria lineare se 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 l'asse di legame è l'asse X l'orbitale PX si avrebbe la geometria giusta perché sta sull'asse di legame ma gli orbitali PZ e PY no di certo quindi che cosa si fa che cosa si fa per riprodurre questa geometria attenzione al concetto si dice gli orbitali atomici di partenza mi sono poco utili mi sono poco utili perché non hanno esattamente la geometria della molecola allora che cosa faccio io mi costruisco un nuovo insieme di orbitali atomici localizzati sull'atomo centrale ripeto mi costruisco un nuovo insieme di orbitali atomici quindi non sto parlando di orbitali molecolari che sono localizzati sull'atomo centrale ma che abbiano caratteristiche di simmetria tali da potermi permettere di ricombinare le funzioni che descrivono i doppietti in modo tale da dare una geometria lineare finale capito il giochetto allora voi mi chiederete ma si possono combinare si possono manipolare gli orbitali atomici di partenza certo qual è il problema sono funzioni matematiche quindi io le funzioni matematiche le posso combinare come voglio in particolare la teoria l'equazione che descrive la meccanica quantistica è un'equazione vedrete differenziale lineare quindi qualunque combinazione di qualsiasi soluzione di questa equazione è anch'essa una soluzione quindi può essere accettata quindi non c'è problema a manipolare le funzioni atomiche l'unica cosa da rispettare è che si devono sempre combinare linearmente cioè si possono fare solo somme o sottrazioni allora guardate a questo punto come modifico gli orbitali atomici dell'atomo centrale in questa molecola lineare per ottenere il risultato voluto cioè quella di riprodurre la geometria lineare guardate nella figura questa combinazione è rappresentata con un metodo geometrico vi ricordo che quando vedete un lobo nero vuol dire che lì c'è il segno negativo quando vedete un lobo bianco vuol dire che lì c'è il segno positivo mentre l'orbitale s che sta sotto ha il segno positivo dappertutto allora ragionate dal punto di vista geometrico se io faccio la combinazione lineare fra un orbitale 2s e un orbitale 2px assumendo che l'asse della molecola sia l'asse x cosa vuol dire fare la combinazione lineare vuol dire praticamente geometricamente sovrapporre i due orbitali notate bene che sto ragionando sullo stesso atomo sullo stesso atomo quindi gli orbitali non sono distribuiti lungo la molecola sono gli orbitali che stanno su un singolo atomo allora se io faccio 2s più 2px no qual è il risultato lo potete capire con un semplice ragionamento geometrico le aree che hanno segno positivo degli orbitali si sovrapporanno si sovrapporanno in maniera e daranno origine a un'area più grande che vedete se uno facesse la descrizione matematica di queste funzioni otterrebbero che il lobo il lobo che sto indicando diventerebbe più grande viceversa quando andate a sovrapporre la parte negativa in nero dell'orbitale p con la parte positiva in bianco dell'orbitale s e queste si sottraggono e quindi l'area diventerà più piccola vuol dire che il lobino dell'orbitale p diventerà molto più piccolo insomma in termini grafici vi ho illustrato che cosa vuol dire fare la combinazione lineare degli orbitali atomici 2s e 2px sull'atomo centrale vuol dire che voi ottenete un nuovo orbitale che non è più né s né p ma verrà chiamato orbitale ibrido sp sp sta a dire che deriva dalla combinazione di un s e di un p che avrà quella forma lì e se se lo andate a piazzare nella molecola lineare dove sta sta proprio lungo l'asse molecolare cioè sta proprio si sovrappone esattamente sulla linea che unisce i tre atomi lo vedete lì sotto ok quindi a questo punto voi dite l'atomo centrale non ha più l'orbitale s non ha più l'orbitale px ha un orbitale che chiamerò sp e che avrà questa forma posso ottenere solo questo orbitale no ne posso ottenere anche un altro perché invece di fare la somma posso fare la differenza che vuol dire semplicemente che il posizionamento dell'orbitale p si ribalta quindi la parte nera va dall'altro lato e la parte bianca si scambia penso che sia per un fisico sia semplice capire queste cose quindi la combinazione 2s meno 2px che è una combinazione che si può fare la matematica ci permette di farlo quindi perché non la dobbiamo fare ci permette di ottenere un secondo orbitale di tipo sp che avrà la stessa forma del primo ma la direzione sarà esattamente al contrario quindi qual è il risultato finale il risultato finale è che sull'atomo centrale che è ammettiamo il carbonio supponiamo sia il carbonio non ci saranno più gli orbitali s non ci sarà più l'orbitale px ma ci saranno al loro posto due orbitali di forma uguale ma diretti lungo due direzioni opposte cioè sono esattamente le direzioni dell'asse di legame come vedete nella figura in basso e questo vuol dire cambiare gli orbitali atomici con dei nuovi orbitali atomici questi sono orbitali atomici mi raccomando non sono orbitali molecolari sono orbitali che appertengono all'atomo centrale ma che io ho manipolato per riprodurre la geometria lineare perché adesso che cosa succede succede che come descriverò il legame il legame lo descriverò semplicemente utilizzerò un orbitale sp che punta verso sinistra per andare a combinarlo con un orbitale atomico dell'atomo che sta a sinistra e ottenere un orbitale che descrive il doppietto di legame però a questo punto siccome gli orbitali sp ha una direzione ben definita cioè sta sull'asse di legame io riesco a riprodurre la geometria cioè so esattamente come devo combinare l'orbitale ibrido con l'orbitale dell'atomo che sta a sinistra cioè l'orbitale ibrido mi dà la direzione di combinazione d'accordo che dovrà essere lungo l'asse dell'orbitale sp quindi l'orbitale di legame risultante sarà sicuramente un orbitale di tipo sigma stessa cosa dicasi per l'altra direzione ossia per l'atomo che sta a destra si userà l'altro orbitale ibrido che avrà direzione opposta questo orbitale verrà combinato con un orbitale atomico dell'atomo che sta a destra per ottenere una funzione che descrive il doppietto di legame ora voi direte ma è una cosa che sembra un po' complicata beh in effetti sì lo è perché spezzettare tutto in questo modo in qualche modo può anche complicare la situazione la teoria degli orbitali molecolari è tremendamente più semplice dal punto di vista concettuale dal punto di vista del calcolo è invece tremendamente più complicata perché perché le combinazioni lineari vi assicuro che per le mano a mano che la complessità della molecola aumenta le combinazioni lineari diventano veramente delle funzioni matematiche spaventose ma in questo modellino dove il legame è descritto a coppie le combinazioni lineari sono veramente semplici quello che diventa complicato è che tu descrivi la molecola a pezzetti e per rimetterli assieme l'unica cosa che puoi fare è modificare gli orbitali atomici dell'atomo centrale in modo tale che dirigano la sovrapposizione con gli orbitali atomici degli atomi periferici questo è il metodo non so se mi sono spiegato quindi quando voi avete una molecola che ha una geometria lineare siete sicuri di una cosa l'atomo centrale non ha più gli orbitali s e l'orbitale px per esempio ripeto se l'asse di legame lo chiamate x ma sarà descritto da che cosa da due orbitali sp definiti come li ho definiti qua naturalmente l'orbitale py e l'orbitale pz che sono perpendicolari all'asse di legame e quelli restano quelli ci sono quelli non è che scompaiono rimangono lì vuol dire che in queste molecole lineari l'atomo centrale gli orbitali atomici che descrivono l'atomo centrale sono stati modificati il pz e il py rimangono gli stessi di quelli che avevamo trovato con la teoria dell'atomo di idrogeno invece l'S e il px se l'asse di legame ripeto lo avete chiamato x invece vengono manipolati in modo tale da ottenere due nuovi orbitali atomici che mi permettono di assemblare la molecola in modo tale da ottenere una geometria lineare ecco il giochino della teoria del legame di valenza tutto qua tutto qua per modo di dire è chiaro come si procede per i vostri scopi adesso che cosa dovete ritenere ammesso che non sicuramente lo sapevate già dovete semplicemente ritenere questo fatto se io scopro che una molecola ha una geometria lineare sono sicuro che l'atomo centrale se riesco a identificarlo sarà avrà una ibridazione questo è il linguaggio una ibridazione di tipo sp sp sta a indicare che due orbitali atomici sono stati ricombinati e sono un orbitale s e un orbitale di tipo p mi raccomando sp questo è il significato del termine sp questi due orbitali nuovi non sono più orbitali s o p ma bisogna chiamarli orbitali sp in questa figura vedete un'altra rappresentazione di quello che vi dicevo più bella cioè dove l'orbitale s viene combinato con l'orbitale in questo caso si usa si usa si l'asse di legame lo prendono l'asse z in questa figura l'asse della molecola lineare viene preso l'asse z e va bene insomma ognuno ci sceglie le coordinate come vuole d'accordo? mentre nell'esempio precedente io avevo chiamato l'asse di legame l'asse x vabbè scusate un po' la confusione prof dica ma quindi l'orbitale s è stato fatto così per avere dei legami sigma giusto? esatto bravissimo per avere dei legami sigma in modo tale da riprodurre lo scheletro della molecola se la molecola è lineare io non posso usare i p e gli s l's non mi dà nessuna direzione privilegiata come fa con un orbitale s a riprodurre una linea retta l'orbitale s teoricamente tutte le direzioni sono uguali quindi non me ne faccio niente devo devo tirar fuori degli orbitali che abbiano una simmetria che abbiano la simmetria di una linea retta in modo tale che quando li vado a sovrapporre con gli orbitali degli atomi periferici io ottengo quello che lei ha appena detto ottengo un legame sigma li sovrappongo in modo sigma è chiaro? quindi ha perfettamente ragione infatti tutti i legami di valenza sono tutti di tipo sigma si parla di scheletro sigma io io creo gli orbitali ibridi proprio per ottenere questo risultato per fare in modo che tutte le coppie di legame vengano descritte da orbitali di tipo da sovrapposizioni di tipo sigma cioè che avvengono lungo l'asse di legame è quello che voglio e se avessi usato gli orbitali atomici originali di partenza non ci sarei riuscito non so se ho risposto però prof all'inizio mi ha detto che se usiamo degli orbitali s comunque dobbiamo sempre i legami sigma sì però con gli orbitali s non con gli orbitali s non riesce a riprodurre ce la fa per carità però a riprodurre una geometria lineare sicura cosa intendo sicura per esempio prenda questa figura che sto indicando lei come può sovrapporre l'orbitale pz lo può sovrapporre lungo l'asse z ma lo può sovrapporre anche a 45 gradi chi è che glielo impedisce lo può sovrapporre anche in tutte le altre direzioni quindi un orbitale s non ha una direzione precisa è chiaro che quando sovrappongo due orbitali s lì non c'è non c'è storia nel senso che la loro sovrapposizione avviene sempre nello stesso modo però si rende conto che la simmestria sferica dell'orbitale s non mi indica una direzione preferenziale la sovrapposizione fra due orbitali s è sempre sigma perché sono sono delle sfere però come faccio io se usassi solo degli orbitali s a ottenere una geometria lineare che ha una direzione preferenziale non ce la farebbe mica è d'accordo con me? quando abbiamo fatto gli orbitali molecolari avevamo messo gli orbitali s ma la geometria era già stabilita la geometria era già stabilita cioè io sapevo che la molecola era triangolare planare per esempio quindi il fatto che gli orbitali fossero sferici non mi interessava niente la geometria era già sotto era già nella combinazione lineare ma se lei ne prende due due orbitali sferici e li sovrappone c'è una regola che le dice se c'è una direzione preferenziale in questa sovrapposizione no di certo e quindi non riesce a dedurre che la molecola risultante è una molecola lineare se ne rende conto adesso con le altre geometrie sarà ancora più evidente non so se ho risposto alla sua domanda sì sì questo fatto infatti risulta ancora più evidente quando andiamo alle altre geometrie geometria triangolare planare eccola qua e chi come faccio se io usassi degli orbitali tipo s l'orbitale l'atomo centrale di tipo s è una sfera c'è una direzione preferenziale gli orbitali atomici degli atomi periferici si possono sovrapporre con l'atomo centrale lungo qualunque direzione chi è che glielo impedisce ma se io voglio riprodurre un triangolo equilatero gli atomi si devono sovrapporre lungo le bisettrici di un triangolo equilatero cioè lungo queste direzioni se no io non riproduco la geometria triangolare planare e come posso fare per fare in modo che gli atomi periferici si sovrappongano lungo queste direzioni che sto indicando io devo costringere la sovrapposizione siano essi s siano essi p devo costringerli a sovrapporsi con l'atomo centrale lungo queste direzioni se l'atomo centrale mi usa un orbitale s l'orbitale s non mi indica nessuna direzione preferenziale e quindi come la metto allora la soluzione è stata proprio questa invece di usare gli orbitali s l'orbitale s atomico di partenza io combino l'orbitale s con gli orbitali p in modo tale da ottenere tre orbitali che abbiano invece una direzione preferenziale ossia siano fatti in modo che la loro forma abbiano una forma dove diciamo il lobo centrale che è quello in bianco lobo sapete cosa vuol dire sta a indicare la direzione dove c'è la massima probabilità di trovare l'elettrone punti verso le direzioni i vertici di un triangolo equilatero quindi gli orbitali i nuovi orbitali atomici che voglio dovrebbero assomigliare a quel trifoglietto che ho scritto nella figura in basso a destra perché se la massima densità elettronica dell'atomo centrale si trova lungo una direzione particolare io riproduco la geometria della molecola mentre con un orbitale s io non ho una direzione preferenziale quindi che cosa devo fare devo trovare delle combinazioni lineari fra l'orbitale s centrale e gli orbitali pi perché suppongo sempre di avere elementi del secondo periodo in modo tale che da ottenere orbitali che assomiglino a quelli che ho scritto qua con la geometria lineare avete visto come è stato risolto si sono fatte due combinazioni lineari s più pi e s meno pi qui sarà la solita storia dovrò fare quante combinazioni dovrò combinare che cosa l'es con però adesso non mi basta più un orbitale p me ne servono almeno due perché perché gli orbitali scusate perché gli orbitali adesso devono stare su un piano non su una linea se combino due orbitali per due punti passa una linea se io ci voglio far passare una molecola planare triangolare planare ho bisogno di tre punti allora devo combinare tre orbitali supponendo che il piano della molecola sia il piano xy ok quante combinazioni posso fare insomma è un giochino elementare mi seguite posso fare la somma di tutti e tre quindi diciamo che usiamo il px e il py perché siamo il piano della molecola cioè chiamo il piano della molecola il piano xy bene allora posso usare il px e il py posso fare la somma oppure posso fare s-px più py oppure posso fare s-px meno py oppure posso fare s-px meno py siete d'accordo? sono tutte operazioni algebricamente permesse sono tutte quindi io posso fare quattro combinazioni lineari degli orbitali atomici dell'atomo centrale chiaro? posso fare una domanda prof? certo cioè ho capito prima ha detto che il lobo nero significa praticamente segno meno e il lobo bianco segno più però mentre la si sommano ok però nella composizione finale che senso hanno gli orbitali neri cioè i lobi neri il lobino nero resta perché adesso glielo faccio vedere qui con questa combinazione allora vede i tre orbitali che ho scritto sono c'è l'S sotto quel cerchietto bianco sotto poi ci sono i due orbitali py e px supponendo che il piano della diapositiva sia il piano xy fin qui ci siamo no? Bene allora punti l'attenzione sulla sulla sovrapposizione dei lobi bianchi con l'orbitale s che sta sotto è chiaro che quelle aree lì matematicamente verrà fuori una somma e quindi suppongo che queste tre aree si fonderanno fra di loro scusate il linguaggio un po' approssimato per formare un orbitale che avrà segno più quello bianco ok che sarà molto più grande dei due orbitali di partenza perché non solo questi due orbitali sono stati combinati gli orbitali p ma anche parte dell'orbitale s è entrato nella combinazione fin qui è d'accordo? sì che cosa succede alla parte negativa è i due lobi negativi degli orbitali p andranno a combinarsi con il lobo positivo dell's che ci sta sotto perché non dimenticate che questi orbitali hanno il centro comune cioè hanno origine nello stesso punto che cosa succederà succederà che le due parti negative verranno in qualche modo la loro area verrà diminuita perché a queste aree nere dovrà essere sottratta la parte bianca l'area bianca dell'orbitale s che sta sotto il risultato cos'è? il risultato è che i due lobi i due lobi neri diventeranno un unico lobo perché si stanno sommando fra di loro i due segni negativi si sommeranno ma però a questi due segni negativi io dovrò sottrarre la parte positiva il risultato credetemi è che viene fuori un piccolo lobo negativo che resta un lobo negativo ma sarà sicuramente molto più piccolo del lobo positivo rappresentato in bianco non so se mi sono spiegato quindi il fatto che rimanga un lobo negativo è dovuto semplicemente al peso delle varie funzioni nelle combinazioni e questo un po' lei lo deve come dire accettare perché lei potrebbe pensare ma non è per caso che questi lobi scompaiono del tutto cioè si si annullano a vicenda forse è quello a cui lei stava pensando cioè si elidono a vicenda no 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 perché le aree non sono esattamente le stesse non si elidono esattamente a vicenda resta una parte negativa che del resto è ragionevole perché lei ha dentro due orbitali P che quindi contano un po' di più dell'orbitale S quando va a fare la sottrazione un po' di orbitali P rimane del lobo negativo degli orbitali P rimane non so se l'ho soddisfatta nella risposta questo è chiaro questo comunque è un modello non ha nessun significato fisico certo è un modello e come ripeto noi stiamo manipolando la matematica lei mi potrà chiedere ma questi orbitali hanno un significato esistono cioè cosa mi descrivono questi orbitali è chiaro che sono orbitali quindi dovrebbero descrivere la distribuzione della densità di probabilità elettronica sull'atomo centrale sull'atomo centrale ma lei mi dirà anche noi quella l'avevamo già descritta con gli orbitali atomici quindi adesso mi stai rimescolando tutto e la sua domanda è giusta che significato fisico ha questa cosa gli atomi si rimescolano fra di loro assolutamente no è una stratagemma teorico teorico per riuscire a riprodurre la geometria quindi lei ha perfettamente ragione questi orbitali qui me li costruisco a tavolino per poter arrivare al risultato finale ossia riprodurre la geometria finale non so se ho risposto alla sua domanda e quindi lei mi può dire ma allora stiamo giocando o stiamo facendo stiamo descrivendo le molecole facciamo come tutti i teorici ci inventiamo un modello e poi speriamo che il modello riproduca i dati sperimentali è chiaro che la geometria verrà riprodotta automaticamente su questo non c'è dubbio perché perché io quegli orbitali li ho costruiti proprio apposta per riprodurre la geometria quindi questa non è una previsione anzi quegli orbitali tu li deduci sapendo all'inizio qual è la geometria finale quindi non è una previsione è un giochino che così il teorico è contento e dice ah guarda che sono riuscito a riprodurre la geometria ah grazie la sapevi fin dall'inizio quindi lei ha perfettamente ragione è un giochino allora a questo punto lo sperimentatore si chiede vabbè è un giochino ma se se lo dobbiamo accettare ci dovrà essere almeno un significato fisico sotto per esempio quegli orbitali lì nella molecola gli orbitali ibridi esistono o non esistono cioè posso io avere un metodo sperimentale che mi permette di sapere se la distribuzione della densità elettronica è veramente corrisponde a quelle regioni di spazio mi capisce la domanda quindi la sua domanda è lecita quella roba lì esiste o non esiste vuole che la risponda subito così così vi deprimete ancora di più no non esistono voi sapete che con la diffrazione a neutroni si riesce si riescono a vedere le distribuzioni delle probabilità elettroniche si riescono a vedere i doppietti solitari per esempio ebbene questi esperimenti hanno mostrato che questi orbitali ibridi non esistono col fischio non esistono la distribuzione della probabilità elettronica non è esattamente quella prevista da questa semplice teoria del legame di valenza quindi adesso lei mi dice beh prof allora cosa facciamo andiamo a casa no di nuovo questo modellino lo dovrete prendere come utile per avere un'idea di come sono fatte le molecole né più né meno però la teoria del legame di valenza lei ha anticipato la conclusione non è quella più usata in realtà viene molto usata in chimica organica per esempio viene molto non è che non si anzi recentemente ci sono stati degli autori che l'hanno ritirata in ballo però ripeto lei ha tutte le ragioni nel dire ma stiamo giocando la mia risposta è sì stiamo giocando stiamo usando la matematica per cercare di costruire un modello ma questo è vero in tutta la fisica quando in tutta la scienza noi costruiamo sempre dei modelli e poi speriamo che il modello riproduca la realtà o meglio i dati osservati quando non li riproduce più lo prendiamo lo buttiamo via lei per esempio è è convinta che esista lo spazio-tempo ha qualche prova sperimentale che lo spazio-tempo davvero esiste sia i buchi neri esistono o non esistono però oggi perché la gente dice accettiamo l'idea del buco nero perché se no non riusciamo a spiegare perché le galassie stanno assieme però in realtà nonostante quello che fanno vedere la ciambellina nessuno ha mai visto un buco nero tutte le teorie sono fatte così cioè sono dei modelli che poi noi ci teniamo stretti finché rappresentano bene la realtà rappresentano non sono la realtà la rappresentano che è molto diverso quando non la rappresentano più prendiamo buttiamo via questo è un esempio tipicissimo di un modellino che ha una sua utilità ha una sua utilità soprattutto a livello elementare adesso non voglio trattenerla troppo con questi discorsi non so se non so se ha qualche altra domanda o è soddisfatta no no ho capito hai capito quindi deve prendere tutto questo come dei giochini ma di nuovo non dimenticate le mie parole quando abbiamo fatto l'equazione di Schrodinger quella è risolvibile solo in un caso quando c'è un elettrone punto e basta allora dopo è stato tutto un giochino dopo abbiamo giocato come giocate tutti i giorni quando fate quando farete la teoria quantistica dei campi o via di seguito non c'è alternativa la scienza è fatta così la scienza è fatta di modelli è un modello nessuno le può dire se il sole è al centro del sistema solare e quindi aveva ragione Copernico o se invece aveva ragione Tolomeo non esiste non esiste nessun esperimento che può permetterle di dire questa cosa perché l'universo è simmetrico nello spazio allora perché accettiamo il modello di Copernico perché è più conveniente tutto lì la scienza è fatta tutta così ora permettetemi di velocemente concludere volevo arrivare proprio alla fine anche al momento momento di polare ma penso che non ce la faremo perché io faccio già le 12.30 allora permettetemi di concludere velocissimamente gli orbitali ibridi e poi dopo vi auguro Buona Pasqua allora siete d'accordo che sono possibili queste quattro combinazioni? E che se voi fate questo ragionamento semplicissimo di andare a vedere come si sovrappongono le aree nere con le aree bianche trovate che queste queste combinazioni corrispondono a questi quattro orbitali quindi si ottengono quattro orbitali che io vi rappresento nella figura a destra sovrapposti uno sull'altro viene fuori un quadrifoglio ok? sovrapposto alla figura vi ho messo il triangolo equilatero questi orbitali vi ho detto li ho inventati e sottolineo la parola li ho inventati così la vostra collega capisce ancora di più che si tratta di un giochetto in modo tale che il lobo più grosso il lobo più grande quello bianco puntasse direttamente ai vertici di un triangolo equilatero allora per due combinazioni ho risolto il problema vedete che i lobi puntano contro i vertici del triangolo equilatero questo e questo i due lobi in alto ma i due lobi in basso no? anzi vanno fuori completamente è vero? allora lo dice è la miseria allora come faccio? per ribadire il concetto che sto giocando come risolve il problema? semplicemente matematicamente se io le ultime due combinazioni le ricombino fra loro quindi faccio 2s più 2px meno 2py più 2s meno 2px meno 2py che cosa ottengo? ottengo una nuova combinazione che sarà 2 volte 2s meno 2 volte 2py però adesso questa combinazione punta proprio lungo l'ultimo vertice del triangolo equilatero stiamo giocando o non stiamo giocando? stiamo giocando la matematica ci permette di fare tutto questo quindi se facessi solo queste 4 combinazioni possibili di 2 combinazioni non me ne faccio niente per riprodurre la geometria vanno in una direzione che non mi piace niente paura io posso ricombinare le ultime due combinazioni per ottenere quello che mi fa comodo e ottengo il terzo orbitale ibrido che chiamerò questi orbitali li chiamo ibridi sp2 che verranno utilizzati per formare i legami a coppie per una molecola triangolare planare quindi quando qualcuno vi dice qual è l'ibridazione dell'atomo centrale in una molecola triangolare planare risposta sp2 dove quel 2 lì non sta a indicare il numero di elettroni no sta solo a indicare che nella combinazione voi avete usato un orbitale s e due orbitali p ve la sto facendo in un modo abbastanza preciso scommetto che sui libri è difficile trovarla perché voi siete fisici accidenti cioè non è che vi posso prendere in giro se io vi dico che le combinazioni le faccio con dei più e dei meno ci mettete un secondo a dire beh allora ne ho 4 e allora come faccio se ne ho 4 ho un orbitale in più e in più due non puntano nella direzione giusta e allora io vi dico niente paura fisici la matematica ci aiuta possiamo fare un'ulteriore combinazione di questi due orbitali che non ci servono per ottenerne uno che invece ci serve fine così intanto imparate il mestiere il mestiere è questo qua poi ecco qui questi orbitali rappresentati di nuovo con una figura più bellina e si chiamano orbitali ibridi sp2 e riproducono la geometria triangolare e planare quindi nelle molecole triangolari planare l'atomo centrale noi dobbiamo ammettere che i suoi orbitali atomici si siano rimescolati per produrre dei nuovi orbitali atomici che sono quelli che vedete rappresentati qui vi ho appena detto che se facciamo la diffrazione neutronica sulle molecole triangolari planari di ibridi sp2 non ne vediamo neanche l'ombra questa è la vita bene non vi turbo con queste combinazioni anche perché sarebbero ancora più noiose vi do solamente il risultato finale la geometria tetraedrica da che cosa sarà descritta la geometria per descrivere la geometria tetraedrica avete bisogno di quattro nuovi orbitali atomici sull'atomo centrale quattro e quindi dovrete combinare perché la geometria tetraedrica si espande nello spazio tridimensionale per cui avrete bisogno di combinare l'orbitale s con tutti e tre gli orbitali p nel caso della geometria triangolare planare un orbitale che è l'orbitale p z in questa figura non viene coinvolto nella combinazione quello rimane ed è perpendicolare al piano del triangolo equilateno quindi scompare l's scompare il py scompare il p x formano i nuovi orbitali ibridi ma il p z rimane qui non è rappresentato ma dovete immaginare che sia un orbitale che è perpendicolare al piano del triangolo invece nel caso dell'ibridazione che chiameremo sp3 dovrò usare tutti questi quattro orbitali otterrò quattro orbitali risultanti i cui lobby principali punteranno lungo le direzioni di un tetraedro e quindi dirò che gli orbitali ibridi sp3 descrivono la geometria tetraedrica ecco questa è la teoria dell'ibridazione che vedremo più avanti è utile non preoccupatevi questo giochino è utile ma anche la teoria degli UIS è un giochino eccolo qua vedete questo è per esempio l'ione ammonio quindi questa teoria è finisco veloce come descrive l'ione ammonio l'ione ammonio è fatto la struttura di Lewis la vedete a sinistra poi vedete anche la geometria tetraedrica come descrive il legame di valenza la 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 suppone che l'atomo centrale sia descritto da quattro orbitali ibridi sp3 l'atomo centrale l'azoto e che questi orbitali ibridi si possono utilizzare per essere combinati a coppie a coppie con l'orbitale 1s di ciascuno degli atomi di idrogeno si formeranno quattro combinazioni sp3 sp3 più s dell'atomo di idrogeno che noi diremo descrivono il doppietto di legame noi non entreremo in queste combinazioni ma vedete che i legami saranno tutti di tipo sigma perché le sovrapposizioni avvengono lungo l'asse di legame e così avete dato una non una spiegazione questa non è una spiegazione è una rappresentazione della geometria tetraedrica dell'ione ammonio accetto tutti i dubbi del caso come la vostra collega ha giustamente espresso mi sembrano tante un giochetto matematico e in effetti lo è va bene direi che va bene mi fermo qua perché proprio non c'è più tempo e vorrà dire che l'elettronegatività e il fatto che l'acqua possieda un momento dipolare lo faremo alla ripresa delle elezioni che saranno l'otto di aprile se non sbaglio bene che sono sì ci sono domande qualunque tipo di domanda è ammessa perché mi rendo conto che questi concetti sembrano un po' messi lì così ma è vero io non ho dubbi che sia così ma ripeto questo è vero per tutte le teorie non ci sono domande bene allora ci fermiamo qui abbiamo fatto gli orbitali ibridi e vedremo che ogni volta che descriveremo una molecola useremo questo linguaggio degli orbitali ibridi perché vedrete che è utile anche se è un giochino formale vedrete che ci permetterà di dedurre in modo qualitativo le proprietà di molte molecole nonché di molti materiali per esempio il grafene per esempio il grafene la teoria del legame di valenza spiega molto bene le proprietà del grafene volevo fare un'ultima osservazione scusatemi se la faccio lunga voi dite questa teoria del legame di valenza mi sembra davvero un giochino lego quindi quegli orbitali ibridi veramente mi lasciano un po' perplesso o perplessa bene io però vi dico una cosa la teoria del legame di valenza come vedete è molto è fusa deve fondersi in maniera completa con il concetto di geometria molecolare se io non conosco la geometria molecolare come faccio a descrivere le coppie però io vi faccio osservare che la fisica non ha spiegato perché le molecole hanno una geometria noi non sappiamo perché le molecole hanno una forma nello spazio o meglio la teoria fondamentale della materia che è la meccanica quantistica non ha dato una spiegazione ancora completamente soddisfacente sul fatto che le molecole abbiano una forma allora allora che cosa vuol dire allora vuol dire che è completamente accettabile se io uso una teoria per quanto semplice per quanto astratta che però mi descrive molto bene la forma descrive insomma mi rende un po' conto della forma delle molecole perché in realtà la teoria fondamentale non mi aiuta per niente ecco perché i chimici sono molto affezionati a questi concetti orbitali ibridi eccetera perché per loro il dato sperimentale fondamentale e questo nessuno lo può mettere in discussione non esiste non c'è non c'è discussione è che le molecole possiedono una forma spaziale e che la meccanica quantistica si inceppa quando si cerca di dare una spiegazione semplice e pulita di questo fatto ecco che ho risposto ancora di più alla vostra collega nel dire che se usiamo questi modelli molto apparentemente semplici e quasi assurdi è perché in realtà abbiamo un problema di fondo che è quello che ho appena ricordato ossia l'esistenza della forma delle molecole beh non aggiungo altro perché vi ho già preso troppo tempo se non ci sono domande io vi auguro buona Pasqua e chiudo la registrazione ok niente non sento nulla ditemi va bene così ci salutiamo qui o ci sono altre domande no no d'accordo va bene così d'accordo così il signor Ferrari fa il portavoce quindi buona Pasqua a tutti e ci si rivede dopo Pasqua buona Pasqua anche a lei buona Pasqua arrivederci anche a voi buona Pasqua arrivederci arrivederci a tutti e ci si rivede a tutti Grazie a tutti.